Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, rallentamenti in direzione Firenze tra Montelupo e Ginestra e in direzione Mare tra Lastra, Signa e Ginestra. Fino al 15 novembre è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Worsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!